Mi diceva il maestro Piero Palumbo che tu sei un'allieva, ecco, una delle più brave, Rita Magnetti. Ciao tesoro! Ciao a tutti! Emozionata! Vabbè, un po' assai emozionata! Vabbè, più brava di tutti, no, vabbè, stiamo migliorando, spero di migliorare sempre di più, stiamo lavorando a nuovi progetti e, che dire, spero di proseguire sempre con questa carriera perché mi piace... Anche un grande maestro alle spalle, lo devo dire, Pietro è uno che vale. Che saluto e saluto anche il maestro Tonio Aprile. Bene, mi associo. Tesoro, cosa ci fai ascoltare? Ruffiana Musica, che tra poco fa un anno che è uscita e se vi fa piacere andatela a ascoltare. Ha detto tutto, eh! Chiaro, chiaro! E come il maestro mi diceva, no, è un po' timido, eh! E fa tutto, tutto, eh! Una volta che parto, parto! Sono io la conduttrice! Brava e bella, allora andiamo a ascoltare subito la sua splendida vocina, Rita Magnetti, ciao! Un'uscita con le amiche, senza programmare niente, mi sentivo stanca ma va bene. Tanto che ci faccio a casa, basta un' solita serata, tra computer e televisione, un tavolo per tre, ma guarda un po' chi c'è, seduto in fondo, chi lo ha io ne da mi piace. Ruffiana Musica, che tra poco fa un' effetto strana, da vicino a me, mi saluta e mi rai a mano. Poi mi chiedi, vuoi parlare? Non so dove cominciare, si c'è proprio tu, però non rirai. Mi sorridono le amiche, ti sorridono le amiche. Mi sorridono le amiche, voglio sapere un po' di più, è arrivato un cameriere, che mi chiede di ordinare, ma non tengo voglia niente più. Voglio soltanto lui, poi vuole solo me, e si avvicina un'altra volta per ballare. Ruffiana Musica, che c'è proprio un effetto strana, da vicino a me, mi saluta e mi rai a mano. Poi mi chiedi, vuoi ballare? Non so dove cominciare, si c'è proprio tu, però non rirai. Ruffiana Musica, tu non firma che sti in mano, e soffè in mano, chi stu privi da mi piace. Ora devo proprio andare, chiambo ma rimane, chi sti allungerà. Ruffiana Musica, tu non firma che sti in mano, e soffè in mano, chi stu privi da mi piace. Ora devo proprio andare, chi sti allungerà. Mi chiede, mamma che sti allungerà. Grazie a tutti.